Benvenuti a questa edizione di Triste Telegiornale sul canale 172. In primo piano il caso L'Eresceri perché a 19 anni di distanza c'è una svolta clamorosa. Il 26enne Siracusano Parà di Reva ha trovato morto il 16 agosto di 19 anni fa nella caserma Gamerra di Pisa, centro di addestramento della Folgore. Vediamo di cosa si tratta. Concorso in omicidio, questa è l'accusa che ha portato all'esecuzione della misura degli arresti omiciliari nell'ambito delle indagini sulla morte di Emanuele Esceri. Il destinatario della misura è un ex comilitone di Esceri. La procura di Pisa ha accolto le ipotesi avanzate dalla squadra mobile. Il procuratore Alessandro Crini sostiene che l'indagine ha consentito di perfezionare la conoscenza relativa al nonnismo. Questo dato emerge anche con modalità tali da ritenere che contro Esceri ci sia stata un'aggressione da parte dei nonni anche mentre fosse a terra. La vicenda ha avuto un'accelerazione perché una delle tre persone da tempo indagate stava per lasciare il territorio nazionale e sarebbe stato poi complicato tornarlo. Questo ha confermato poi il procuratore Crini e secondo i quotidiani del Toscana, essere finito da domiciliare, Alessandro Panella, commilitone e capocamerata del reparto a cui il parà siracusano era stato assegnato. Panella è anche cittadino americano, aveva comprato proprio per domani 3 agosto un biglietto di sola andata verso gli Stati Uniti. Per gli inquirenti dove era preso l'indagine aveva deciso di lasciare l'Italia nei suoi confronti l'accusa di concorso in omicidio volontario. Panella non è un nome nuovo, viene citato da un altro commilitone durante un'audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta istituita nel 2016 per capire le cause e la morte del parà di leva. Il mio lavoro di indagine in qualità di presente alla commissione di inchiesta Sceri e dei miei colleghi parlamentari trova un epilogo importante, ha affermato Sofia Amodio che è stata presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Emanuele Sceri. L'arresto di un ex militare, dice ancora Amodio, rappresenta un passo importante verso la ricerca della verità e della giustizia che la famiglia Sceri e l'opinione pubblica stanno aspettando da 19 anni. E a proposito del caso di Emanuele Sceri, il comune di Siracusa si costituirà parte civile al processo che ne scaturirà. Vediamo. Il comune di Siracusa ha deciso di costituirsi parte civile all'eventuale processo a carico dell'indagato per la morte di Emanuele Sceri. Oggi è un giorno migliore, dice il sindaco Francesco Italia, il quale a nome dell'intera giunta ringrazia Sofia Amodio e la commissione di inchiesta che ha portato avanti un lavoro attento e puntuale con riscontro nella svolta giudiziaria odierna. Il mio ringraziamento, dice ancora Italia, va anche al gruppo di amici che dando vita all'associazione Giustizia per l'Ele hanno aiutato la famiglia a non restare da sola in questi 19 anni. Per arrivare a questo importante risultato, dice la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo che è stata vicepresidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Sceri sono stati fondamentali i lavori della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare ai quali ho partecipato, dice, con trasporto. Grazie alle oltre 72 edizioni, all'attività della commissione stessa e per la ricerca delle verità la procura di Pisa ha riaperto le indagini per arrivare ai risultati odierni, una dimostrazione di come il lavoro parlamentare della commissione di inchiesta, tante volte disprezzate, si è svolto con reale volontà di ricerca della verità possa contribuire attivamente alla vita democratica del Paese. Verità e giustizia per l'Ele non rappresentano solo un anelito, dice invece l'assessore Fabio Granata quale fin dal primo momento non abbiamo mai smesso di credere ma anche per questo motivo ci considereremo parte civile come amministrazione comunale nel nome di un giovane siracusano che ricorderemo per sempre. Emanuele non si è suicidato, è stato ucciso, questa è la convinzione dei familiari, degli amici di larga parte dell'opinione pubblica che è stata la conclusione a cui è pervenuta la commissione parlamentare di inchiesta nel mese di dicembre del 2017, commissione parlamentare a cui da componente ho dato il mio convinto contributo. Così Pippo Zappulla, coordinatore di articolo 1 MDP in provincia di Siracusa che ha svolto un lavoro rigoroso e approfondito con l'audizione di 45 persone e l'acquisizione di più di 5.000 pagine di documenti, un lavoro serio e impegnativo che ha consentito di illuminare tante zone grigie e scoperto fasi, momenti, fatti che erano stati sottovalutati se non presi del tutto in considerazione nelle fasi delle varie indagini. Dopo anni lunghissimi di dolorosi silenzi, di omertosi, inquietanti tentativi di insabbiamento la Procura di Pisa ha ritenuto dunque valide le ragioni per riaprire l'anno scorso le indagini fino ad annunziare in queste ore i primi provvedimenti, un arresto per concorso in omicidio e altri due indagati. L'azione meritoria della Procura di Pisa va sostenuta, conclude Pippo Zappulla, senza sé e senza ma, fino a conclusione delle indagini e nella stessa fase processuale. Cambiamo argomento. Il rettore dell'Università di Catania, Basile, ospite questa mattina a Palazzo Vermexio, a Siracusa, ha incontrato il sindaco Francesco Italia e tre assessori della sua giunta al centro dei colloqui, la questione della sede di architettura. Dottore, un incontro con l'amministrazione comunale, il primo della nuova amministrazione comunale e cosa avete chiesto? Io sono molto lieto di essere qui oggi perché grazie al sindaco abbiamo tenuto una riunione molto pratica, fondamentale per la presenza dell'Università a Siracusa. Noi già siamo presenti, ma dobbiamo certamente migliorare la logistica nell'interesse degli studenti e dobbiamo anche verificare se possiamo essere presenti con altre possibilità, con altri corsi di laurea e con altri corsi di formazione. Stiamo lavorando insieme a questo. Ringrazio anche l'assessore Granata che ha voluto tenere questa conferenza insieme e tutti gli altri partecipanti. Credo che abbiamo messo le basi per un futuro migliore, per il rapporto tra comune di Siracusa e Università di Siracusa. Cosa che non va nella caserma bella? Ma ha bisogno di alcuni lavori di ristrutturazione e anche ha bisogno di rendere più confortevoli gli ambienti per gli studenti. Inoltre ci sarebbe la possibilità di creare degli spazi residenziali perché c'è una parte non utilizzata e quindi stiamo intravedendo la possibilità di creare anche una parte per residenza per gli studenti. Sono lavori di una certa entità per cui l'Ateneo ha bisogno di collocare il corso di laurea per il periodo dei lavori in altra sede e su questo proprio abbiamo discusso trovando nel Sindaco un interlocutore attento e intravedendo già delle possibilità che vogliamo mettere sul tappeto al più presto. Quali sono le soluzioni, Sindaco? Noi lo abbiamo detto già in tempi non sospetti, abbiamo tutto l'interesse come amministrazione comunale di facilitare e accompagnare questo percorso di potenziamento sia da un punto di vista logistico che da un punto di vista proprio accademico della presenza qui a Siracusa. La formazione è un volano straordinario di sviluppo per tutto il territorio, abbiamo dato la nostra piena e completa disponibilità a accompagnare e facilitare questo percorso anche nell'ottica di questa rifunzionalizzazione della caserma dando la disponibilità eventualmente anche ad ospitare la facoltà in altri spazi comunali. Sono al vaglio, come dire, saranno al vaglio sopralluoghi e opportune visite per valutare quali luoghi e in quali tempi. Il Rettore dell'Università di Catania ha posto anche il dito nella piaga del credito che l'Ateneo vanta nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Voi avete un contenzioso aperto con la provincia? No, non abbiamo un contenzioso perché non l'abbiamo voluto aprire per ragioni di rispetto istituzionale tra enti istituzionali e vantiamo un credito e pertanto cerchiamo o di esigerlo o quantomeno che ci vengano offerte delle opportunità a favore dei nostri ragazzi e della nostra collocazione a Siracusa. Quanti sono ancora i ragazzi? Ci sono circa 600 in atto negli anni di corso, quest'anno noi abbiamo un limite di 100 iscritti come possibilità, le domande hanno superato di poco le 100 adesso ma ancora c'è possibilità di iscriversi. Ci fermiamo adesso, linea alla regia per la pubblicità, poi torniamo con le altre notizie. A tra poco. Una condotta da una donna di 79 anni di origini catanesi, le cui condizioni sono in corso di accertamento, è venuta in collisione contro una Fiat Panda guidata da un uomo di 55 anni. A seguito del violento impatto, la donna moriva durante il trasporto in eliambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre il conducente dell'altro veicolo veniva trasportato all'ospedale di Lentini dove è ricoverato ma non in pericolo di vita. Ovviamente le indagini sono in corso. Manutenzione dei bus elettrici. I dipendenti dell'impresa senza stipendio ormai da due mesi scatta la protesta. Vediamo il servizio. Da due mesi senza stipendio e con la spada di Damocle di una possibile ormai prossima rimodulazione del contratto di appalto con il comune di Siracusa, sono i dieci i lavoratori della Genius, l'azienda che si occupa della manutenzione di bus elettrici in servizio in città. L'appalto, che si lega dal comune capoluogo, scadrà il prossimo 9 settembre e l'amministrazione ha già fatto sapere che sta valutando di rimodulare il contratto. Ce lo hanno confermato il 28 luglio. L'assessore Randazzo e il dirigente Natale Borgione, commenta il segretario generale della FIM e CIS, Roberto Getulio, li abbiamo incontrati con una delegazione di lavoratori e ci hanno detto che stanno valutando l'ipotesi di rimodulare il servizio, ovviamente ad un costo molto inferiore di quello attuale. Torneremo ad incontrarci dopo il 20 agosto, ma è chiaro che senza stipendio e con fosche nubi sulla continuità lavorativa siamo pronti a indire uno sciopero con evidenti ricadute sul servizio bus elettrici in città. Parliamo adesso della casa circondariale di Cavadonna, malgrado l'interpello nazionale, sempre carente il numero degli agenti di polizia penitenziaria. Vediamo. Proseguono i disagi per il personale di polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale di Cavadonna. A poco o nulla è servito l'interpello nazionale con cui il Ministero della Giustizia ha destinato alla struttura detentiva del capologo 22 agenti provenienti, quasi tutti dal nord Italia. In effetti l'esigenza di nuovo personale è ben superiore al numero esiguo di unità inviate alla casa circondariale, spiega Sebastiano Bongiovanni, segretario dell'UGL Polizia Penitenziaria. Se si considera poi che delle 22 unità destinate a Siracusa alla fine del corso per la formazione degli allievi, 12 hanno ottenuto il trasferimento in strutture vicine ai centri di provenienza, ci si accorge che non appena 10 agenti in più il problema della carenza inorganico permane, come pure l'emergenza. Turni di lavoro massacranti, tanti servizi da coprire, un numero elevato di detenuti da seguire rappresentano la quotidianità nella struttura penitenziale traforidi e cassibile. A ciò occorre aggiungere gli imprevisti e la emergenza come quella avvenuta ieri mattina quando un detenuto ospite nel padiglione di massima sicurezza è rovinato sul pavimento battendo il capo. Scattati i soccorsi, il personale di servizio ha dovuto fare intervenire l'ambulanza del 118 per trasportare il ferito all'ospedale Umberto I, scortato da una vettura di servizio e da un furgone penitenziario. Nelle condizioni di assoluta precarietà di personale, dice Domenico Nicotra, segretario aggiunto di OSAP, si fa difficile affrontare le emergenze. Purtroppo tutte le nostre istanze e gli appelli fino ad oggi sono accaduti nel vuoto. Da settembre, promette Nicotra, ci sarà fuoco. Dopo la protesta di maggio con la relativa consegna in carcere alimentata da buona parte gli agenti della Polizia Politenziaria in servizio a Cavadonna, ma ancora i sit-in davanti alla Prefettura, le riunioni, gli incontri sindacali, la UGL ha messo a punto un'oltre iniziativa. Pensiamo, dice Bon Giovanni, di acquisire il modello 14 di ogni agente in servizio a Cavadonna. Consegneremo la documentazione ai nostri legali per adottare un ricorso collettivo con richieste di esarcimento danni al Ministero della Giustizia. Ancora nessuna modifica nel codice degli appalti. Imprese di lì al collasso, associazioni in stato di agitazione sono pronti a scendere in piazza. I particolari nel nostro servizio. Ogni mese in Sicilia chiudono sempre più imprese di costruzioni. Ormai al collasso il grido di allarme di tutte le sigle sindacali continua a restare inascoltato. Da tempo, infatti, le associazioni di categoria chiedono a gran voce una modifica del codice degli appalti che in atto penalizza i piccoli imprenditori. Le sigle in stato di agitazione annunciano ora che in mancanza di risposte certe e concrete porteranno le imprese a manifestare in piazza. Nelle scorse settimane le associazioni di categoria hanno presentato un documento contenente la proposta di modifica del sistema di giudicazione, incontrato le rappresentanze politiche presenti all'Assemblea regionale rappresentando inoltre il grave momento che sta attraversando il settore delle costruzioni, non solo per il calo di investimenti pubblici, ma anche per le faraginose regole introdotte dal Codice dei Contratti, che oggi registra aggiudicazioni delle gare pubbliche con ribassi superiori al 40%. Le organizzazioni dell'artigianato fanno fronte comune e richiamano ancora una volta la politica regionale a ruolo istituzionale che le compete per avviare un intervento rapido e mirato a correggere il Codice degli Appalti, i cui effetti devastanti stanno paralizzando un intero settore, che fino a poco tempo fa era motore trainante dell'economia dell'isola. L'attuale Codice degli Appalti, che è stato rivisitato in alcuni suoi aspetti, in barba alle proposte avanzate dalla base mediante le associazioni di categoria, rappresenta oggi per il settore un ostacolo più pesante e dannoso della stessa crisi economica degli ultimi anni. Ad oltre due anni dalle entrate in vigore del Codice degli Appalti, si legge in una nota dell'Associazione di Categoria, riteniamo sia giunto il momento di avviare una riflessione importante, come già più volte richiesto, sull'impatto del Codice e dei suoi precipitati pratici. Non possiamo aspettare oltre. Lo sport per concludere con la palla a nuoto. L'Ortigia la forza, la squadra, in vista del prossimo campionato di Serie 1. Vediamo. Ancora due rinforzi per l'Ortigia di palla a nuoto. Si tratta di Damiano Pellegrino, portiere, catanese di 21 anni, e Sebastian Susa, cattaccante, perugino di 24 anni. Il primo arriva dalla Waterpolo Catania, con la quale ha disputato il campionato di Serie B. La carriera sportiva è iniziata alla Blue Team per continuare alla nuoto Catania, con il sette rosso-azzurro ha vissuto la trafile delle giovanile, esordendo in A2 a soli 15 anni. Una stagione giocata ai titolari e poi conclusa con la sconfitta nella finale play-off contro il Como, con la nuoto Catania ha conquistato invece due anni fa la promozione nella massima serie. Sebastian Susa, origine croate, arriva dalla Como, dove nella stagione 2011-2012 ha avuto come coach Piccardo giovanili alla Perugia, poi due anni in Serie B, quindi tre anni in A2 e in promozione A1 con Como nuoto, giocando due campionati nella massima serie. Grazie per la vostra cortesa attenzione, arrivederci e risentirci al prossimo appuntamento. Grazie per la visione!